Diamo in Italia troppa importanza agli allenatori. Noi pensiamo che dipenda tutto dagli allenatori, ma guardate il Napoli. Allora, il Napoli è partito con Garzia, che giocava con Raspadori a destra e cambiava. Kvaraschelia all'inizio del secondo tempo. Non devi partire, devi partire da spalletti. Quindi se parti da spalletti... Certo, è proprio quello che è l'importanza. Fabio, ti voglio bene, ti aiuto io. Allora, noi che siamo stati qui a dire che Inzaglio, Bravo e Migliorato, è diventato proprio a giocare in modo strepitoso l'Inter e ha migliorato tutti. E allora poi che stiamo a fare qui, che gli diamo il seminatore d'oro a Gasperini. Ma andiamo contro quello che diciamo. Sono importantissimi gli allenatori. No, sono importantissimi, ma non così vitali come noi. Noi parliamo solo di allenatori. Parliamo solo di tattica. Perché? Perché mio figlio, e poi dicono perché nel calcio italiano ogni tanto ha difficoltà. Mio figlio non gliene frega niente del 4-3-3, il movimento. Non so se il tuo figlio, ma i giovani parlano di tattica. Vuole l'uno contro uno. Mio figlio vuole l'uno contro uno. Il calcio va sull'uno contro uno. Fabio, hai ragione. Lo sapete perché? Perché i videogiochi vanno sull'uno contro uno. Sì, va bene. E no, è importante invece. Perché tutte le generazioni che giocano con i videogiochi, ormai non è più un videogioco che copia il calcio, ma è quasi il calcio che deve fare in videogioco. E' così da me, genitore e bambino di 12 anni, ma ha cominciato a parlare del 4-2-3-1. Per cui parlano molto di tattica. Non è che parlano solo dell'uno contro uno. Poi se noi vogliamo dire che soddisfa di più e ci fa stropicciare gli occhi quando le ha ondeggia e lo fa bene. Certo. Noi parliamo sempre come se i giocatori fossero quelli del bigliardino, che c'è l'allenatore fuori che rimuove Corpomello. Ma non è così. Non è così. È questo che dico, no? O no? La prova è il Napoli di adesso. Hai cambiato tre allenatori. La colpa è stata. Prima di... Non parlare di tattica. Ma parla di entrare dentro nel giocatore e tirargli fuori il meglio. La gente non paga il biglietto, non vede la partita in televisione per l'allenatore. Non so, ma noi stiamo dicendo un'altra cosa. Tu hai detto che l'allenatore deve trovare la chiave per il giocatore, ma anche il giocatore deve trovare la chiave per se stesso. Cioè non stiamo parlando di pupazzi, stiamo parlando di uomini giustamente. Nessuno psicologo ti trova la chiave, ma si dica e poi devi aiutarti. Ma un medianone che sappa la terra e diventa più raffinato perché gli dai tre soluzioni e ti sembra più bravo tecnicamente perché lo convince sul passaggio pulito, diagonale in avanzamento e poi si ripropone nello spazio, a distanza da personale. Non l'aveva mai fatto. Ma sono d'accordo. Lo convince e lo fa evolvere. Ma è anche il medianone però.